Era il suo primo giorno di lavoro nella sua Sicilia dopo anni passati da emigrante a lavorare in Francia, poi il ritorno nell'isola e l'ingaggio per un cantiere nell'ennese dove purtroppo Roberto Savasta, un operaio di 28 anni di niscemi, ha trovato la morte. Il giovane ha perso la vita precipitando da un ponteggio allestito in un cantiere a Val Guarnera. Era stato appena assunto da una società di Ragusa e si sarebbe dovuto occupare della manutenzione dei tetti. Secondo una prima ricostruzione era al lavoro sul tetto del magazzino di stoccaggio di un hard discount quando è precipitato nel vuoto facendo un volo di 12 metri. Il 28enne è stato prontamente trasportato all'ospedale di Enna ma a causa delle ferite riportate non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Enna per effettuare i primi rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro su cui sono in corso le verifiche. I militari dell'arma hanno sequestrato l'area dell'incidente e stanno indagando per accertare eventuali responsabilità. Roberto era originario di Niscemi dove era molto conosciuto, così come molti suoi coetani era stato costretto a fare le valigie e andare all'estero per riuscire a lavorare. Fin da ragazzino aveva prestato la sua monodopera all'interno di un'azienda agricola che si occupa di ortaggi, poi la partenza per la Francia e il rientro lavorativo tanto desiderato in Sicilia. Quel lavoro però, che gli aveva permesso di ritornare nella sua terra, è stato l'ultimo della sua vita, stroncata troppo presto. Quello di Roberto è l'ennesimo incidente sul lavoro e su questa nuova morte bianca. La segreteria confederale della CGL lancia l'allarme. Roberto è l'ennesima vittima, l'ennesimo lavoratore che esce la mattina per andare a lavorare e non ritorna più a casa. Esprimiamo tutta la nostra rabbia, ma non la nostra rassegnazione, perché chiediamo e pretendiamo che ci sia sicurezza nei posti di lavoro, che ci sia formazione, che ci sia prevenzione. Non possiamo più tollerare ammettere che i nostri giovani, i nostri cari, i nostri figli escono da casa e trovano la morte perché devono andare a lavorare. Il nostro Paese, fondato sul lavoro, deve pretendere per questi nostri lavoratori, per tutti i nostri lavoratori, sicurezza, prevenzione e salute. Ed è per questo che come CGL ogni giorno cerchiamo di imporre, di gridare a tutti la necessità della sicurezza nei posti di lavoro. L'Udc sembra ormai messo alle spalle. Il consigliere comunale Salvatore Incardone, il cui nome è spesso stato tra quelli ipotizzati per un'eventuale corsa verso l'Ars, sta mettendo insieme più caselle in uno schiacchiere che parla di centrodestra, ma senza rinunciare all'appoggio al sindaco Lucio Greco. Un anno fa aveva preannunciato l'intenzione di sviluppare un movimento fuori dall'Udc e in quest'ultimo periodo il passo è stato mosso. Ha già parlato con chi farà parte del direttivo. Ci sono persone a lui vicine che si sono dette disponibili. Incardone lo definisce come un movimento aperto con professionisti ma anche società civile. Ci si muoverà anche nell'ottica delle prossime scadenze elettorali. Il consigliere comunque continua ad avere un dialogo anche con partiti dell'area di centrodestra che possano dargli un'identità. Il gruppo potrebbe essere ufficializzato a breve ed è in fase di costruzione, anche se il nucleo principale c'è già. Incardone pare avere un progetto lineare che non divergerà da quello dell'amministrazione comunale. Anche sotto il simbolo Udc, il presidente della Commissione Affari Generali, si è sempre dimostrato tra i più fedeli alla causa del sindaco, rispettando patti e accordi. La nuova collocazione politica però lo porterà a mettere le cose in chiaro anche con il primo cittadino. Incardone ribadisce che il movimento non sarà in alcun modo in antitesi con l'amministrazione comunale. Riferirà sia al sindaco che all'assessore Danilo Giordano e chiederà appunto di avere un incontro. Il consigliere fino ad oggi è stato il riferimento politico all'assessore civica per l'assessore Giordano, scelto proprio dall'Udc. Con Incardone, che ormai guarda ad altre collocazioni di partito, anche l'assessore dovrà decidere se proseguire il cammino centrista oppure se optare per altre soluzioni. Il gruppo Udc in consiglio comunale a breve potrebbe venire meno. Le prossime scadenze elettorali ormai alle porte stanno pian piano, rimodulando gli schemi originari della maggioranza del sindaco che si trova a dover fare delle scelte anche a seguito della uscita dei rinziani d'Italia Viva. Incardone vuole mantenere l'intesa ma senza dover rispondere per conto dell'Udc che comunque anche attraverso il coordinatore provinciale Silvio Scichilone ha da poco confermato il sostegno all'avvocato greco. Mancano ormai pochi giorni al 79esimo anniversario dello sbarco alleato sulle coste locali con l'operazione ASCII che aprì la strada all'avanzata delle truppe antitedesche. Si è riunito stamattina per la seconda volta il tavolo tecnico che sta organizzando i festeggiamenti in occasione del 79esimo anniversario dello sbarco degli americani sulla costa di Gela. All'incontro hanno partecipato il sindaco Lucio Greco, il vice sindaco Terenziano Di Stefano, il club service della città, il professor Nuccio Mulè e Alberto Lunetta, responsabili delle comunicazioni della base USA Sigonella collegata in videoconferenza. Abbiamo organizzato queste due date, giorno 9 e 10 luglio, per questa commemorazione sullo sbarco degli alleati. Partiremo giorno 9 a Ponte Tirillo, dove ci sarà presente la delegazione degli americani, poi passeremo al cimitero monumentale per ricordare i nostri carabinieri caduti in guerra, poi passeremo, poi ci sarà anche un convegno presso la chiesetta di San Giovanni, ci sono due giornate, giorno 9 e giorno 10 di pomeriggio presso Gela e Miniatura, dove c'è la possibilità di vedere anche degli oggetti che ricordano quel periodo, e poi giorno 10 invece andremo prima a Lungomare, di fronte alla Capitaneria di Porto, poi saliamo su Viale Mediterraneo che già, come avrete avuto modo di vedere, già stiamo allestendo e poi ci saranno due eventi importantissimi, uno è l'annullo postale che verrà fatto presso l'ex dogano a Lungomare e poi subito dopo c'è una proiezione che ricorderà appunto i momenti storici dello sbarco. Dalle 16 alle 18 verrà aperto il parco tematico Gela e Miniatura alla cittadinanza per visitare, pensate, l'unico luogo, area espositiva dedicata allo sbarco del 10 luglio 1943. Il sindaco ha anche ricordato come quest'anno sia solo preludio dei festeggiamenti che si terranno nel 2023, in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione ASCII e che, come proposto dal consigliere comunale della Lega Emanuele Labbiso, in una mozione presentata lo scorso marzo, l'amministrazione comunale punta ad organizzare l'ottantesimo anniversario ad altissimo livello, anche con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proprio in vista dell'ottantesimo anniversario che sarà celebrato il prossimo anno, già sin dal 79esimo abbiamo pensato di ampliare le iniziative per questa due giorni del 9 e del 10 in occasione della ricorrenza di questo importante evento storico a memoria dei caduti, a memoria di quanti hanno contribuito perché la nostra nazione, la nostra regione, la nostra città di Gela venisse liberata dal nazifascismo. Colgo l'occasione per lanciare un appello, atteso che la curva dei contagi ha subito negli ultimi giorni di nuovo un'impennata con un significativo aumento dei contagi e quindi sarebbe opportuno, sarebbe necessario che tutti indossassimo la mascherina possibilmente mantenendo anche il distanziamento sociale a livello proprio di prevenzione per evitare che la curva continui ancora a crescere. Anche il carcere di Balate è aderito alla partita con papà, l'evento organizzato dalla Ollus Bambini Senza Sbarre che sta coinvolgendo tantissimi istituti penitenziari italiani. L'iniziativa si sviluppa all'interno dell'annuale campagna Carceri Aperte che fa cedere negli istituti le famiglie dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. E così, questa mattina alcuni detenuti hanno avuto la possibilità di incontrare le loro famiglie per passare alcuni momenti di spensieratezza. Le coppie papà-figlio poi si sono sfidate a un torneo di calcio balilla, un momento ludico e di condivisione normale per tutti gli altri bambini ma che risulta eccezionale per i figli e i detenuti e per le loro famiglie e che per questo rimane a lungo nella loro memoria. Per questi bambini e per i loro genitori dunque l'iniziativa di oggi diventa importantissima perché porta entrambi, genitore e figlio, in una dimensione quotidiana che per loro semplicemente non esiste. Emozioni semplici e per questo straordinarie per chi è abituato a non viverle. È un'emozione molto particolare perché dopo tutto questo che esce tramite la pandemia, guerra, tutto un insieme di cose, diciamo, e grazie anche all'istituto, è una sensazione che veramente si era persa, si può dire. Ma adesso è una cosa veramente particolare, non ci sono neanche parole. Da adesso in poi si comincia piano piano a ritornare alla normalità e tutto questo, diciamo, sono veramente emozioni proprio indescrivibili. Oggi diciamo che è un'emozione diversa dal solito, un'emozione che si prova poche volte durante un periodo di detenzione. I tempi concessi sono più brevi, quindi in queste occasioni abbiamo più possibilità di comunicare con i nostri figli, mogli, sorelle e chi altro. Quindi diciamo che questi momenti aiutano tanto anche a dare forza per superare quello che ancora c'è da temporeggiare qui. Diciamo che i figli fanno passare tutto, quindi all'impatto non ce ne rendiamo nemmeno conto perché abbiamo i figli davanti. Poi magari dopo il pensare che vanno via, magari un po', però diciamo che sono momenti abbastanza forti. Un momento importante anche per lo staff di Balate che pian piano sta facendo ripartire tutte le attività sospese a causa della pandemia e dei focolai che si sono diffusi all'interno della struttura. Noi abbiamo avuto un periodo di chiusura non solo con il lockdown generale che ha riguardato tutti, ma da ultimo siamo stati più di un mese chiusi per un focolaio all'interno dell'istituto. Quindi poter aderire a questa campagna, riaprire di nuovo e far in modo che i bambini possano stare insieme ai loro genitori per noi e per la tutela delle famiglie, dei detenuti e dei detenuti stessi era una cosa importantissima. Con le attività abbiamo già ripreso, abbiamo ripreso peraltro con le attività più che altro formative. Abbiamo organizzato e abbiamo già in fase di conclusione il corso sulla sicurezza sul lavoro per i detenuti lavoranti, il corso HCCP sempre per i detenuti della cucina e i corsi di formazione che stiamo per concludere. Ci spingeremo a settembre a riprendere tutte le altre attività anche con i volontari. Speriamo con l'attività teatrale e con tutto quello che ha caratterizzato sempre le attività di questa casa circondariale. Sull'IPA Baldisio si sono concentrate le attenzioni dei PM della Procura che hanno coordinato l'inchiesta avarizia, approfondendo una serie di presunti illeciti che avrebbero consentito l'ingresso dei privati attraverso la società La Fenice. L'indagine ha toccato gli ex vertici della struttura di Caposoprano e quelli della stessa società. Una tempesta giudiziaria che sicuramente ha riportato alla ribalta la casa di ospitalità da tempo sotto gestione commissariale. Il governo regionale ha deciso che ci sarà un cambio alla guida, non proseguirà la gestione di Giuseppe Lucisano. Sono stati infatti superati i termini previsti dall'incarico che determinano l'incompatibilità stabilita dalla normativa. Lo stesso Lucisano bloccò la presenza dei privati, dichiarando nulli tutti gli atti. L'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali, Antonio Scavone, ha proposto il passaggio di consegne in una fase sicuramente molto delicata. La guida è stata affidata a Carmelo Casano, l'ex consigliere comunale che è funzionario dell'amministrazione regionale iscritto nell'albo di riferimento, reggerà le sorti dell'IPAB fino alla nuova nomina del Consiglio di Amministrazione che però verrà individuato solo dal prossimo governo regionale. Per Casano si prospettano molti mesi di gestione. Nella sua esperienza si è già occupato di altre IPAB in Sicilia. Scavone ha puntato su di lui e il governo musumeci ha autorizzato la nomina. A questo punto Casano potrebbe insediarsi già nei prossimi giorni. Senza un nuovo commissario si sarebbe corso il rischio di un danno certo e grave per l'ente. Così viene spiegato nell'atto di nomina in base a quanto riportato Casano in possesso come da curriculum prodotto dei requisiti previsti. E quindi questo motiva ampiamente la designazione anche a seguito della verifica effettuata dagli uffici di diretta collaborazione dell'assessore regionale. Così è riportato anche nel provvedimento di nomina. Il governo regionale ha deciso di affidarsi ad un funzionario di esperienza che proseguirà il lavoro già avviato dal suo predecessore. A marzo il sindaco Lucio Greco aveva invece provveduto a nominare i quattro componenti del nuovo CDA. Una decisione che però non ha avuto seguito con la regione che non ha concluso la procedura in attesa del nuovo governo. Erano stati indicati l'avvocato Antonio Davide Pizzardi che svolge ruoli da funzionario all'ASP di Catania e il dottor Patrick Marcello Giarrizzo, Salvatore Palmeri e l'avvocato Carmelo Brentino scelto dal sindaco nella qualità di presidente del distretto sociosanitario. La regione però non ha dato seguito alla procedura. Casano ha spiegato di essere un dipendente della regione e come tale si occuperà dell'incarico che gli è stato affidato, così ha detto brevemente dopo la nomina. Ora si attende l'avvio della sua attività nella struttura di Caposoprano. La commissione comunale SIC-ZPS dopo alcuni anni di totale estasi è stata riattivata negli scorsi mesi. Due riunioni si sono tenute ad aprile, tutte incentrate sulla vicenda dei vincoli e delle autorizzazioni per i progetti che ricadono in zone protette. È uno snodo fondamentale anche per l'amministrazione comunale che punta sui progetti e sui fondi anche del PNRR e dell'EZES. La riattivazione della commissione è stata voluta dalla dirigente Emanuele Tuccio che sta prendendo parte alle attività e ha proposto un proprio modello di gestione delle procedure per le autorizzazioni. Arrivare ad un'intesa complessiva per evitare i conflitti istituzionali tra gli enti competenti è la premessa dell'attività che si vuole portare avanti già da tempo. Seppur con posizioni non del tutto conformi, va avanti il dialogo tra Palazzo di Città e la Riserva Biviere. Emilio Giudice, direttore della riserva, proprio ad aprile ha avuto un lungo confronto con la commissione con l'amministrazione comunale e con i tecnici. Da anni chiede la piena attuazione dei protocolli e di strumenti normativi come il piano di gestione e quello di risanamento. Dopo le due riunioni, l'attività della commissione si è sostanzialmente fermata in attesa che il sindaco Lucio Greco procedesse ad autorizzare integrazioni nelle nomine e la sostituzione del docente universitario Federico Bagliasindi che aveva fatto sapere di rinunciare all'incarico. Il dirigente Tuccio ha chiesto che si procedesse alle nuove nomine e così Greco ha individuato due docenti dell'Università di Catania. Marisa Ameli, che è direttore del Centro Studi Interdipartimentale Territorio Sviluppo Ambiente e principale investigator nel progetto sulla transizione energetica e Daniele Larosa, che è associato di tecnica e pianificazione urbanistica della Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura dell'Università Etnea. Inoltre entra a far parte della commissione l'architetto Rossella Pisano, esperta in gestione di pratiche ambientali. Il provvedimento è stato firmato proprio dal sindaco greco. I tre nuovi componenti si aggiungono a Maurizio Spina, Orazio Giudice, Massimo Cassara, Marco Trenito, Vincenzo Cascino e Salvatore Stimolo, che erano già stati designati. Sono tanti i progetti, anche finanziariamente assai cospicui, che ricadono nelle aree protette. L'amministrazione comunale ha da tempo intrapreso la via del dialogo che ha portato all'autorizzazione per i primi lavori del maxi investimento sulla gas Argo Cassiopea. Per il dirigente Tuccio, ma anche per il sindaco Lucio Greco e per l'assessore Terenziano Di Stefano, quel provvedimento autorizzativo può essere il modello da seguire nel tentativo di mettere insieme esigenze produttive e tutela delle aree protette. Il percorso è ancora molto lungo e i punti di divergenza non mancano. La scelta ricaduta sui docenti universitari ed esperti potrebbe assicurare apporti scientifici e normativi ulteriori. La scelta ricaduta sui docenti universitari ed esperti